Ti dico è proprio una scarpa che in casa Nike mancava, sembra proprio di stare dentro in un gommone ma proprio tanto perché comunque il piede tra virgolette sprofonda. Era solo questione di tempo che Nike tornasse ad occuparsi di noi tapascioni, non ne avevo nemmeno per un secondo il dubbio. Ossia di coloro che corrono senza l'ossessione del cronometro ma che lo fanno solamente per il piacere di correre. E finalmente lo posso confermare proprio oggi, l'attesa è finita perché in questi giorni Nike ha rilasciato anche sul mercato italiano queste nuovissime Invincible Run che a mio parere saranno una delle scarpe più vendute in Italia nel 2021 proprio per le caratteristiche che rappresentano. Ossia comodità, ammortizzazione al tempo stesso, reattività, espressioni che se fossi tornato indietro di 5 anni non avrei mai pronunciato assieme anche perché la tecnologia nel mondo della corsa sta evolvendo allo stesso passo del mercato tech. Ma per capire questa apparente contraddizione partiamo, come al solito, dalle specifiche che sono davvero incredibili. Le Invincible Run sono una scarpa dai 278 grammi di peso nella taglia US 9, 37 mm, avete capito bene, di altezza dal suolo nel tallone, 28 mm, ossia differenziale 9, nell'avampiede. Non c'è mai stata nessuna scarpa A3 di questo tipo negli ultimi 15 anni, neanche la Vomero 15 di cui abbiamo fatto tra l'altro la recensione solamente un mese fa. Sono secondo noi tre le caratteristiche che rendono questa scarpa unica, stay with me nella recensione ve le racconto in maniera sintetica in modo tale che poi voi possiate considerare eventualmente la possibilità di acquistare questa tipologia di scarpa. La prima cosa da notare è il ritorno della Tommaia in Flyknit che però non è quella classica che avete già visto per intenderci sulle Epic Rehat che avevano una flessibilità superiore, cosa che secondo me non è così negativa anche perché sappiate che sebbene si perda un po' di incomodità si guadagna sicuramente in stabilità e soprattutto nel bloccaggio del piede che invece era il limite fondamentale di questo Flyknit. A livello di design poi Nike è stata fondamentalmente a causa dell'altezza del suolo obbligata a impostare un tallone sostanzialmente rigido che permette però una maggiore stabilità strutturale del piede, stabilità che è migliorata anche grazie al sostegno laterale che era già presente nei modelli Epic degli anni scorsi e soprattutto nell'Infinity Rehat 1 che era stata venduta come scarpa molto stabile. In effetti questo sostegno in plastica ben visibile permette alla scarpa di essere sostanzialmente più stabile e di conseguenza adatta anche ai podisti amatori alle prime armi che magari sono sovrappese e secondo noi l'utilizzo di questa scarpa potrebbe essere davvero universale per praticamente una miriade di podisti amatori di tutti i tipi. Il tallone poi nella parte superiore è una parte particolarmente morbida che rende la scarpa simile tra virgolette ad un divano. Anche la linguetta soffietta è molto morbida e comoda e là ci sono piatti ed ampi ci sono solamente 5 occhielli ma il piede comunque resta come già detto ben bloccato. L'intersuola poi è quella famosa in Zoom X finora era stata riservata solamente per le scarpe da gara sappiate però siccome avete probabilmente già visto ulteriori recensioni in Nike tra l'altro sarebbe davvero oro se vi iscriveste al canale anche perché in questo modo non vi perderete le ulteriori recensioni che nelle prossime settimane faremo di scarpe, di tecnologia e anche di allenamenti. La cosa interessante dell'Invisible Run è che la quantità di Zoom X è davvero molto superiore a quella presente negli altri modelli cosa che permette di rendere la scarpa molto morbida ma al tempo stesso come già dicevo prima anche davvero reattiva. Però tutto dipenderà dal vostro modo di correre sappiate che la scarpa ha davvero una base molto larga sia nell'avampiede sia nel tallone cosa che vi permetterà di correre in maniera relativamente stabile tra l'altro la scarpa ha una quantità di gomma generosamente presente su tutta la suola con la presenza di tantissimi tacchetti piccolini che consentono tra l'altro di aumentare il grip senza creare rischi di infortuni. A completare il design della scarpa, a parte la struttura Meta Rocker e la base molto ampia abbiamo apprezzato gli elementi riflettenti laterali e sul tallone che permettono di correre anche di sera senza problemi. Prima di passare la parola ad Andrea, tra l'altro dal campo di calcio di Garbagnate sappiate che negli studi Nike questa scarpa consente di ridurre gli infortuni del 52% rispetto a una scarpa stabile e tradizionale dello stesso marchio argomento molto interessante di cui probabilmente vi parlerò nelle prossime settimane qui sul canale tra qualche giorno appena raggiunti i 300 km e Andrea li farà in due settimane vi parleremo della recensione completa di questa scarpa per ora lascio la parola ad Andrea pista, velocità, prodepodista sappiate che come al solito ha tirato fuori qualche perla di saggezza che vi permetterà di stabilire se questa scarpa vi è adatto e quali sono i suoi limiti. Cosa è l'anellazzo che hai messo su Instagram? Andrea, ascolta, io ho imparato a usare le luci e tu invece mi chiedi di venire in pista, come mai? Perché non è ancora buio, le luci non servono e quindi via al posto Oggi che cosa vorresti testare? Allora, oggi è arrivato questo cadeau da Nike tramite Don Kenya Niente, siccome è una novità assoluta abbiamo deciso di provarla In realtà non siamo in pista, siamo al campo di calcio però va bene Come la utilizzaresti questa scarpa? E' che la pista è dietro Guarda, questa scarpa credo che dia un calcio nel sedere alle vomero Diciamo che le vomero erano cambiate tantissimo Erano diventate delle scarpe ormai da lento svelto e mancava una scarpa da riposo Ed è arrivata lei e ti dirò, guarda, solamente messa al piede, già vista così, ma messa anche al piede Andrà a fare la guerra con le Clifton, se non le bondi di Oca Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Allora, secondo me è una scarpa un po' per tutti, diciamo per i pesi massimi soprattutto Che mancava, ripeto, mancava la scarpa dopo l'avomero Ma comunque credo per tutti, io la userei per i lenti in settimana Quelli da 80 minuti, quelli che non finiscono più, dove ho bisogno di ammortizzazione Quindi credo che davvero sia una scarpa sia per quelli leggeri che cercano comunque della protezione E per i pesi massimi che in casa Nike non avevano più scarpe E per quale distanze le utilizzaresti secondo te? Guarda, le utilizzerei per tutti i lenti, anche per i lenti per la maratona, diciamo Per i lunghissimi per la maratona, perché comunque è una scarpa fatta apposta per riposo e di protezione Avendo però lo Zoom X, una delle domande che mi sono state chieste su Instagram è Effettivamente sono anche adatte per correre la velocità? Guarda, per correre in velocità non lo so, perché sono abbastanza ingombranti anche Quindi non mi azzarderei, sicuramente c'è una scarpa con questa suola così L'avremmo pensata per un chilo e mezzo di scarpa, invece è relativamente leggera Quindi qualcosina di svelto, magari delle variazioni le posso fare, non di più Per il resto ho altre scarpe Invece che sensazioni ti hanno dato al confronto con le Vaporfly Next Che hanno comunque anche loro lo Zoom X? Beh, si sente che manca la piastra, diciamo Si sente anche che manca la stabilità che dà la piastra in carbonio Ti dico, è proprio una scarpa che in casa Nike mancava Sembra proprio di stare dentro in un gommone, ma proprio tanto Perché comunque il piede è tra virgolette sprofonda Viene accolto da questa gomma molto morbida E diciamo che sembra diverso lo Zoom X rispetto a quello delle Vapor L'idea della comodità davvero di essere in un salotto è uguale Abbiamo sempre detto che comunque lo Zoom X rispetto al React Che è l'altra intersuola e mescola conosciuta da Nike Utilizzata da Nike Fosse relativamente meno durevole Cosa ne pensi? Eccolo, lo diremo nel prossimo video Io non lo so, guarda, però quando ho usato le Pegasus Turbo Non avevo notato così tanta decadenza della scarpa Più che altro avevo trovato un po' meno durature le Vapor Le Vapor Next che sto centellinando Più che altro per la storia della piastra in carbonio Che un po' si appiattisce Guarda, io credo che con tutta questa gomma sotto È difficile che la scarpa si scarichi presto Credo che farà comunque i suoi 700 km come le Oca E invece cosa dici a proposito del numero Visto che comunque la Tomaya è particolarmente flessibile Cosa ne pensi? Allora, io direi stesso numero solito di Nike Perché comunque in Flyknit È un Flyknit un po' strano rispetto al solito Che mi ha sempre dato un po' di fastidio Qua l'hanno migliorato perché ha messo una conchiglia nel tallone È più stabile Guarda, non dà problemi Secondo me stesso numero solito di Nike Ci hanno chiesto, siccome un mese fa avevamo fatto la recensione delle Vomero C'erano due scarpe che sono uscite sul mercato Le Infinity React 2 e questa Quali sono secondo te le principali differenze? Beh, sicuramente questa qua è una scarpa ancora più ammortizzata Forse meno stabile perché avendo un po' più di gomma, di ciccia Rimane un po' più instabile per i tallonatori seriali Però per il resto sono due mescole un po' diverse Ti dirò Questa qua comunque rimane più morbida Rimane con la scarpa massima ammortizzamento Zatte era tipo Leoka che io avrei voluto che Nike facesse e le altre Marche facessero Perché ormai mi sono abituato con una scarpa così da riposo Difficile dire quali siano i punti di forza e debolezza di questa scarpa Che comunque ci hai fatto solo qualche giro di riscaldamento prima delle ripetute che faremo tra poco Ma cosa ci puoi dire in merito? Guarda, ti posso dire però che l'hanno venduta come scarpa anti-infortuni E ti dico che la userò proprio per quello Un po' come facevo, ripeto, con Leoka Clifton Appena avevo un mezzo dolorino Subito Leoka Clifton che mi davano quel riposo e ammortizzazione che avevo bisogno Credo che farò anche con queste scarpe col baffo Secondo te a quali altre scarpe sia in casa Nike ma anche di altri Marchi questa scarpa assomiglia? Guarda, assolutamente sembra la sorella della Leoka Clifton Anche un po' la Bondi Scarpe in casa Nike ti dirò con forse l'Infinity React Ma è difficile trovare una scarpa molto simile a questa perché davvero c'è tanta ciccia sotto Per chi ha provato l'Evapor sì, il tallone è quello, è morbido così Però è una scarpa da lente invece che una scarpa da gara Quindi il peso è più importante Invece ho visto che hanno cambiato il battistrada Cosa ne pensi come sensazione iniziale? Guarda, ti dico al piede ovviamente non si sente la differenza Sono curioso di capire il tallone che questo qua è uno dei punti di usura con quello esterno E qua la punta come si comporterà È strano questo motivo che ha usato Nike per fare il battistrada Vediamo, sembra che sia bello grippante al terreno, molto preciso Vediamo però i pirulini quanto ci metteranno per consumarsi Speriamo non troppo Mi sembra una gomma abbastanza morbida che ci farà tenere anche sull'asfalto bagnato L'unico dubbio che posso metterci è magari la durata Adesso vedremo tanto i 300 km Credo che nel giro di due settimane li riesca a fare Vediamo subito E in effetti l'ultima domanda è Quando testeremo l'Infinity React 2 Il primo modello non l'abbiamo testato assieme Però cosa dici? Lo faremo oppure no? Eh lo facciamo Tanto siamo dietro Ormai siamo quasi monomarca Quindi vabbè aspettiamo qualche coffee in più No diciamo che ci stiamo svenando Qua si ripeto Grazie a Nike, grazie a Matteo Per le altre grazie ai vostri coffee E alle gentili tasche di Max E qualche volta le mie Riusciamo a prendere un po' di più Però ecco questa è una critica che faccio un po' a qualche marca Adesso le scarpe da lento me le stanno aumentando tutte di prezzo Non è che sia un'ottima mossa Perché comunque le scarpe ci durano sempre quei 700-800 km Si è alzato i prezzi Non è buono Facciamo anche fatica a testare tutte le scarpe Vabbè quello sì Ormai abbiamo gli armadietti pieni Comunque se dovessimo arrivare a 5000 views Sicuramente faremo un test completo in pista E magari ti filmo anche in pista Perché comunque non lo facciamo da parecchio tempo E sono migliorato tantissimo Ho anche nuovi gimbal Quindi li vorrei utilizzare Va bene grazie a Andrea Mi raccomando mandateci qualche coffee Così faremo altre ulteriori recensioni E ci vediamo alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima